Probabilmente, l'amica svetlana ha ragione a pensare che Daria sia una sciocca. Ecco perché è ancora single. I genitori l'hanno tenuta sotto stretto controllo fino al termine della scuola. Non è riuscita ad iscriversi da nessuna parte per studiare. Non ha funzionato. Ha dovuto arrangiarsi lavorando come commessa in un negozio. Gli amici e le amiche si sono dispersi. Ora passa le serate da sola, senza immaginare come si evolverà la sua vita in una piccola città tranquilla. Come si può trovare l'amore qui? Eppure, non è peggiore degli altri. Un mese fa, un uomo sconosciuto è apparso per la prima volta nel negozio. È vero, è più vecchio di Daria, ma le è piaciuto subito. Alto! In forma, senza neanche l'ombra di una pancia da birra, come la maggior parte degli uomini della sua età. I suoi occhi azzurri trasparenti le sembravano gentili, come quelli di un bambino. E un sorriso calmo, amichevole. L'unico difetto è sposato. Inoltre, a differenza di suo marito, sua moglie è una donna bassa e paffuta, sicura di sé e decisa. Comanda lui come vuole. E lui obbedisce tranquillamente, seguendo i suoi ordini. Si chiama Vladimir, così la moglie lo ha chiamato a gran voce. Quindi, dovrebbe essere lui a dominare il mondo, non questa donna. Se fosse stato il marito di Daria, lei non gli avrebbe mai rindiato così. Ma lui è completamente dominato da una bionda pienotta e assertiva. Senza nemmeno rendersi conto del tesoro che possiede. E hanno tre bambini. Paffuti come la loro mamma. Piagnucolano, chiedendo ai genitori quello che desiderano. La madre non presta molta attenzione ai loro capricci. Ma Vladimir gli permette tutto, suscitando gli sguardi di disapprovazione della moglie. Certo, forse Daria ha sbagliato. Di recente, quando rispondendo alla cassiera svetlana, che aveva colto il suo sguardo, ha raccontato della sua simpatia per Vladimir. Svetlana, alzando un sopracciglio perfettamente disegnato, l'ha ascoltata attentamente e ha subito ricordato questa coppia. Un uomo interessante. Bisogna occuparsi di lui. Altrimenti qui si muore di noia. E la moglie non è un muro. Guarda come svetlana è sicura di sé. E come le riesce tutto facilmente. Avviare una conversazione con uno sconosciuto. Iniziare a parlare di nulla. E poi, dopo solo pochi minuti, riuscire a guadagnarsi la sua fiducia. E perfino ottenere il suo numero di telefono. O fissare un appuntamento. Ecco perché è già sposata. E vive allegramente, mentre il marito è in viaggio. Ma lui non la lascia. Probabilmente, la ama e le perdona tutto. Certo, svetlana è carina. Ed è per questo che Deni la ama. E Daria è stufa di questa vita. Casa, lavoro, lavoro, casa. Deve imparare urgentemente dalla sua collega più anziana come fare conoscenze rapidamente. Proprio oggi, prima del lavoro. Svetlana, facendo l'occhiolino ad aria, ha rivelato che Vladimir è stato invitato al lavoro da Nikita, tornato in città dalla provincia e diventato il caporedattore del giornale locale. A proposito, lo stesso Nikita è libero da legami familiari. Ma qui difficilmente sceglierà una sposa. Dicono che avesse una relazione sul lavoro nel centro provinciale. Proprio per questo lo hanno trasferito qui con una promozione, per dirigere la redazione nella sua città natale. Ora vive con la madre e non frequenta nessuna donna. Svetlana rise. A te piace Vladimir, ma io potrei uscire con il suo amico, mentre Deni è via. Altrimenti, che noia insopportabile. Facciamo una scommessa su chi di noi riuscirà ad attirare la sua attenzione più velocemente, tu o io. Daria allora sorrise soltanto. Come posso competere con te? E ora ecco che si avvicina alla cassa di Svetlana con gli acquisti. Daria si fermò da parte, decisa a osservare come l'amica esperta avrebbe conquistato l'attenzione dell'uomo. Lei, brillando con i suoi occhi grigi, gli sorrise in modo affascinante. Buongiorno. Serve una busta? No. Bene. Oggi c'è una promozione. Sconto su cioccolato e caffè. Prenderà? Lei ha tre figli. Daria osservava attentamente l'amica. Il giovane uomo alzò sorpreso le sopracciglia. E come lo sa? Abbiamo un mese dedicato al trattamento cortese dei clienti. E lei viene spesso qui. Mi piace il suo negozio. Veniamo sempre qui. Vive vicino? Le è comodo fare la spesa qui? Ha la carta fedeltà del cliente abituale? Certo che ce l'ha. Svetlana, svolgendo il suo lavoro, guardava maliziosamente il cliente. Guarda un po'. Questo uomo ha un sorriso davvero magico. E sulla guancia sinistra gli appare subito una piccola fossetta. Così seducente, le verrebbe da baciarla. Vladimir, perché ci metti così tanto? Interroppe la loro conversazione una voce femminile scontenta. Senza girarsi, Svetlana capì che si era avvicinata a sua moglie. Una sciocca con prole al seguito. Così lei e Daria la chiamavano tra di loro. Bassa. Paffuta. Cosa ci trova in lei? E di nuovo lei ha interrotto. Ma lui stava già guardando lei, Svetlana. E nei suoi occhi brillava un interesse gioioso. Ancora un po' e tra di loro si sarebbe stabilito un legame sottile. Questo primo legame avrebbe potuto poi trasformarsi. Ma ora il momento è perso a causa di sua moglie. È sempre lì. Un marito esemplare altrui, ma molto seducente. Daria si avvicinò rapidamente alla cassa. Allora, questo bel ragazzo non reagisce nemmeno a te? Il nostro scommesso è fallito. Ne tu ne io siamo riusciti ad attirare la sua attenzione finora? Lei sospirò. Ho visto come lo hai seguito per tutta la sala, mostrandogli tutto. E lui guardava solo la merce. Controllava i prezzi, leggeva le etichette. E noi per lui, come se non esistessimo, attirò l'amica più vicino e sussurrò. Sai, Daria, le sue nati che a volte in stretti jeans mi tormentano ogni giorno. E ieri spuntava il bordo dei suoi boxer, blu con una sottile striscia rossa. Probabilmente un regalo dalla sua bassa e rotonda mogliettina. Poi strizzò l'occhio maliziosamente. Dai, Daria, facciamo uno scherzo. Puniamo quel presuntuoso arrogante. Prenderemo il numero di telefono dal modulo che ha compilato per la tessera sconto. E scriveremo a sua moglie come lui mi tradisce. Si chinò verso l'orecchio della cassiera, coperto da riccioli cenere. Non hai paura? Quando tornerà il tuo Denis, avrai dei problemi. A me non importa, non sono sposata. Preoccupati per te stessa, amica. Ma lui ha bisogno di una lezione, per farsi che presti attenzione agli altri. Proviamo a farlo litigare con la moglie. Poi vedremo se sarà ancora così amichevole con tutti. E sua moglie così compiaciuta. Allora avremo l'opportunità di consolarlo e coccolarlo. E alla fine dovrà scegliere tra noi due. Lei amicò maliziosamente all'amica. O forse non è necessario scegliere. Vedremo. Decisamente prese il telefono. Ora lo prendo e scrivo. E accennerò anche ai boxer. Le dita agili di Svetlana digitarono rapidamente il testo. Dopo aver inviato il messaggio, si voltò verso i clienti che si avvicinavano. Daria era inquieta per tutto il turno. Per chi è così insicura? Come può Svetlana essere così sicura di sé? Semplicemente assegna i ruoli e pensa che piaceranno all'uomo. Forse solo lei. Daria non conosce la vera vita, mentre gli altri vivono come vogliono. Forse non è necessario complicare tutto. Sedersi ad aspettare un amore celestiale. È davvero così semplice uscire con il marito di un'altra? Divertirsi solo per non annoiarsi. Svetlana non pensa affatto alla famiglia di Vladimir. E sua moglie? E i tre figli? Risponderà davvero? E poi tornerà a casa tranquillamente e guarderà sua moglie negli occhi come se nulla fosse? Daria si immaginò al posto della moglie ingannata. No, si sente dispiaciuta per sua moglie. Non è affatto grassa, solo un po' pienotta. Dopotutto ha partorito tre figli. Daria decise che non aveva bisogno di un uomo a quel prezzo. Certo. Come marito Vladimir non le si addice, ma deve imparare da Svetlana come fare conoscenze. La sera Vladimir si sistemò per ascoltare un libro, aspettando che Natalia entrasse in camera da letto, anticipando una serata romantica. Ma la moglie entrò, sbattendo bruscamente la porta. Rosa dopo il bagno e in un morbido accappatoio bianco, era meravigliosa. Natalia, più piano, sveglierai i bambini. Ma dai, ti ricordi ancora dei bambini? La sua voce non era per niente romantica. Lui alzò gli occhi e fissò il viso turbato e offeso della moglie. Natalia, cos'è successo? Qualcosa con i bambini? Lei lo guardava come se fosse un nemico, e le labbra tremavano finemente. Come hai potuto? Abbiamo tre bambini. Hai sempre mentito dicendo che mi amavi. Io ti ho fidato. E tu? Una grossa lacrima trasparente scendeva lentamente sulla guancia. Le labbra si contorcevano. La mano lasciò cadere lo smartphone, come se fosse rovente. Vladimir riuscì a prenderlo al volo. La moglie con le labbra tremanti sussurrò. Leggi. E perché lanci il telefono? O lo hai fatto apposta? Così scopro. Chi ti ha scritto? Prova a spiegarmi cosa significa. Lui, raffreddandosi, lesse. Vladimir, ti amo così tanto. Ora sono sdraiata sul divano e ricordo il nostro ultimo incontro. Le sottili strisce rosse sui tuoi boxer blu scuro mi fanno tremare di desiderio. Dove sei, tesoro? Ho paura di chiamare. Potrei svegliare i tuoi tre bambini. Peggio ancora, se la tua dolce cicciottella sta rotolando accanto a te e nemmeno si rende conto della sua fortuna. Sto impazzendo al pensiero che forse il suo grasso fianco sfiora il tuo seducente sedere. E io voglio coprirlo di pace. Vladimir era stupito. Assurdità. Chi potrebbe aver mandato questo? La moglie si arrabbiò. Assurdità. Lei sa molto di noi. Persino che tipo di mutande hai? Giuro, non sono stato con nessuna. Mai. Nemmeno ci ho pensato. Sei davvero come tutti gli altri. Lei si piegò a prendere la coperta. Lui volle avvicinarla a sé e trasformare tutto in uno scherzo. Ma Natalia si ritrasse con disgusto. Non osare toccarmi. E piangendo scappò fuori dalla porta. Per circa due ore tentò inutilmente di spiegarle. Stando alla porta della stanza dei bambini, che non era colpevole e non sapeva chi potesse aver scritto quel messaggio. Lei soltanto si indiozzava amaramente. Non riuscì a prendere sonno. La mattina sbirciò dalla fessura della porta. Natalia giaceva, con le gambe piegate su un cortolettino per bambini, abbracciando il caldo corpicino della figlia di mezzo, con gli occhi chiusi e non reagendo ai rumori. Dovette prepararsi il caffè da solo e andare in redazione, dove lavorava. Il suo amico Nikita, che cambiava continuamente donne e scherzava sempre sulla fedeltà coniugale dell'amico, scoppiò a ridere quando Vladimir gli raccontò tristemente dei suoi guai. Vladimir, sei davvero tu a dirmi questo? Tu. Che consideravamo l'unico marito fedele al mondo. E non c'è stata nessuna avventura con quella bella ragazza? Mi chiedo, come deve essere l'amante con cui tradisci la tua amata Natalia? Devi assolutamente farmela vedere. Ma Vladimir non apprezzò lo scherzo. Capisci, non so nemmeno chi possa averlo scritto. Natalia sta impazzendo. E io amo solo lei. Nikita riflette. Cosa si può fare? Come aiutare un amico? Va bene, so cosa fare. Dobbiamo provocarla. Tu chiama questo numero e corteggi gentilmente la ragazza al telefono per alcuni giorni. Lamentati che hai chiamato a causa di uno scandalo con tua moglie. Poi la porterai alla luce, fissando un appuntamento. Vladimir abbassò il capo. Non so flirtare. E se anche funzionasse, ma Natalia lo scoprisse, non mi perdonerebbe mai. Nikita, dopo averci pensato un po', rise. Allora pubblichiamo sul giornale che per gelosia tua moglie ti ha colpito con un ferro da stiro e ti ha spaccato la testa. Addirittura mostreremo una fasciatura. Allora la seduttrice ti chiamerà immediatamente. Vladimir persino gemette. Nikita, smettila di scherzare. Mi sento già male. L'amico cercò di calmarlo. Va bene, chiamerò io al posto tuo. Dammi il telefono. Io so come parlare con le donne. Che sia da lontano o faccia a faccia. E tu vai dalla tua moglie. Vladimir, ancora esitante, alla fine passò il suo telefono. No, voglio ascoltare cosa dirai per me. Nikita digitò velocemente un messaggio. Bella sconosciuta. Mi scuso, ma non posso parlare ora. Capirai, non sono libero. Mi sono sposato troppo presto, ma desidero davvero incontrarti quanto prima. Un minuto dopo, arrivò la risposta. Incontriamoci con piacere. Non c'erano clienti e Svetlana. Spegnendo il telefono, uscì dalla cassa. Corse velocemente attraverso la sala e sussurrò allegramente all'amica. Daria, ha risposto, è pronto ad incontrarsi. Te l'ho detto, avremo l'opportunità di consolarlo e coccolarlo. Nikita, riflettendo sulla risposta, pensò un po'. Ora andiamo da tua moglie. Dobbiamo scoprire quando è pronta a venire a vedere la donna che sta rovinando la vostra felicità familiare. Decideremo insieme il momento per fissare l'appuntamento. Natalia forse non vorrà parlare. Con te forse non vorrà, ma a me crederà. La donna offesa, come Vladimir sospettava, non credette a Nikita. Stai solo difendendo un amico. Conosco la vostra solidarietà maschile. Ma lui non aveva intenzione di arretrare. E se adesso chiedessi a qualcuno di inviarti un messaggio d'amore per rovinarti la vita e farti litigare con tuo marito? Come ti giustificheresti? Lo stesso vale per Vladimir. Lui non ha nemmeno idea di chi possa averlo scritto. Il contatto non è registrato nel suo telefono. Certo, potremmo fare una denuncia alla polizia. Ma si limiterebbero a riderci sopra. Ci occuperemo noi del problema e ti mostreremo questo burlone o questa burlona. Natalia riflette. Amava suo marito. Voleva davvero credere che fosse solo un malinteso. All'improvviso ebbe paura. Il suo Vladimir è attraente, in forma e, soprattutto, gentile. Piace a qualcuno. Se lo respingesse, perderebbe il marito amato e rimarrebbe con tre bambini. E quella persona raggiungerebbe il suo scopo. Sospirando, decise di accettare e di vedere di persona la rivale. Va bene. Fissiamo l'appuntamento per oggi alle otto di sera. Nikita annui soddisfatto. Vladimir, e tu perché taci? Lasciamo decidere a Natalia. L'amico rise sotto i baffi e digitò il testo. Possiamo incontrarci nel parco vicino al ristorante Nord. Oggi alle otto. Svetlana, leggendo il messaggio. Strillò di gioia e corse di nuovo da Daria. Daria, stasera abbiamo un appuntamento. E sai dove? Proprio al ristorante Nord. L'amica sorrise scettica. In due. E come lo divideremo? Lasciamo che sia lui a scegliere. E Svetlana scrisse. Indosserò un vestito rosso. Alle nove in punto, le amiche eleganti, entrambe in rosso, entrarono nel parco vicino al ristorante. Tra i passanti e chi riposava su una panchina, sedeva Vladimir con un mazzo di fiori. Daria esclamò. Svetlana. È un sogno. È venuto con i fiori. Svetlana rise. Ma con un solo mazzo. E subito decise. Lo divideremo in due, equamente. Si avvicinarono alla panchina e si sedettero ai due lati di Vladimir, dicendo all'unisono. Eccoci qui. Nikita, seduto da parte e coprendo Natalia, fischiò. Ragazze, davvero fantastiche. Anche Natalia guardò e rimase sbalordita. Le ragazze, sorridenti a suo marito, erano incantevoli. Entrambe in eleganti vestiti rossi, snelle e ben pettinate, sorridevano promettendogli una festa. Avevano scelto suo marito, attraente, e speravano di portarglielo via. Mani e piedi all'improvviso si raffreddarono, paragonandosi a loro, come se si vedesse da fuori. Lei indossava una maglietta grigia semplice. Pantaloni semplici. Era in sovrappeso. Con il ventre e i fianchi sporgenti. E nemmeno i capelli in ordine. Poi, ricordando il testo del messaggio in cui la chiamavano una dolce cicciottella e alludevano al suo fianco pesante. Si sentì così a disagio che persino la voglia di litigare svanì. Lei stessa trasandata. E se poi diventava anche arrabbiata. Un contrasto così netto con queste splendide donne sorridenti e abbaglianti. Solo sperava che Vladimir non pensasse lo stesso. Ma lui, vedendo le ragazze, le riconobbe subito. Lavorate nel nostro negozio. Ecco da dove sapete tutto sulla mia famiglia. Daria sorrise. Certo. Ci piaci molto. A lui non fece ridere. E a me voi no. Svetlana gli lanciò un'occhiata civettuola. Stavamo solo scherzando. Ma puoi scegliere una di noi, o come preferisci. Lei gli sorrise incantevolmente. Sei venuto e non te ne pentirai. Daria pose una mano sulla sua. Non arrabbiarti, Vladimir. È solo uno scherzo. Volevamo solo attirare la tua attenzione. Lui scrollò via la sua mano e si alzò. Sono venuto per fermarvi e mostrare a mia moglie che amo solo lei. Svetlana rise. Che cosa? Hai paura di tua moglie? Dai almeno il mazzo di fiori. Perché l'hai portato? Altrimenti? Vladimir si alzò bruscamente. Non l'ho portato per voi, ma per mia moglie. E si diresse direttamente verso Natalia. Natalia, amo te, non queste donne truccate. Intorno si levavano esclamazioni allegre. Bravo ragazzo, hai detto bene. Si scopre che anche gli astanti stavano ascoltando la conversazione. E una delle donne esclamò sorpresa. Oggi lo dirò a Maria. Come sua Daria si getta da sola sugli uomini sposati. Che sfacciataggine! Daria, sentendo le sue parole, balzò in piedi e se ne andò velocemente. Svetlana si alzò con calma e la seguì tranquillamente. Un'altra donna, guardando le ragazze che si allontanavano, chiese. E quella chi è? Non sarà mica Svetlana? Ha un marito, solo che probabilmente è di nuovo in viaggio. Il viso di Daria ardeva per le dure parole della conoscente zia Liuba. Ecco come ha imparato a fare conoscenze da Svetlana. Ha trovato l'amore. Così si è coperta di vergogna senza ottenere nulla. Nella loro città, si può perdere una buona reputazione in un solo colpo. La sera, dopo aver messo a letto i bambini, Natalia entrò in cucina da Vladimir. Stai andando a dormire? Vladimir sorrise. Beviamo solo un tè con i biscotti. Lei sospirò tristemente e scosse la testa. Non voglio. Bevi tu. Ti aspetto. Questi sono i tuoi biscotti preferiti. Li ho comprati apposta per te oggi. Lui la tirò a sé e sussurrò di nuovo. Natalia, vivi tranquilla. Amo solo te. Daria non riusciva a dormire dopo la conversazione con sua madre. Sia Ludmila non si era risparmiata e era venuta nella loro strada per raccontare alla madre di Daria le svergognate oscenità che sua figlia aveva commesso. Parlava ad alta voce, apposta, perché Daria sentisse tutto dalla sua stanza. Era arrivata con la sua sfacciata amica sposata per sedurre un uomo sposato con tre figli, proprio davanti agli occhi di sua moglie. Si erano sedute entrambe e avevano iniziato a sorridere. Fortuna che l'uomo era intelligente e aveva rifiutato il loro appuntamento, regalando i fiori alla moglie. Lei sospirò. Bene, almeno tua Daria non ha retto e se n'è andata subito. Ha capito che schifezza avevano combinato. Non le hanno lavato il cervello così tanto. Ma di quella sua amica, quante cose hanno raccontato. Non a caso suo marito Denila già picchiata. Deve averlo colpito. E ora le brave persone gli apriranno gli occhi. La madre continuava solo a lamentarsi. E quando la chiacchierona zia se n'è andata, è entrata da Daria. Come osi litigare? Hai disonorato tua figlia di fronte a tutta la città. Così Daria, in lacrime, si addormentò. E la mattina non voleva andare al lavoro in negozio. Probabilmente il pettegolezzo si era già diffuso tra le vicine di casa. E tutte sarebbero venute a fare la spesa. Svetlana sedeva alla cassa con occhiali neri, nascondendo un livido che spiccava sotto l'occhio. Denis non era ancora tornato ieri sera che qualcuno ci ha già fischiato. Ecco perché è scoppiato. Daria aveva l'impressione per tutto il giorno che le persone la guardassero e la giudicassero. Dopo pranzo, Denis entrò nel negozio, senza salutare e guardandola con derisione. Allora, sei una sgualdrina proprio come Svetlana. Daria stava per scoppiare in lacrime per l'offesa. Ecco come ha imparato a fare conoscenze. Un errore e una cattiva reputazione per tutta la città. Ora meglio andarsene da qui. A Nikita, una delle ragazze che aveva cercato di avvicinarsi a Vladimir, era piaciuta. Quella che si era imbarazzata e era scappata dall'appuntamento. Prima di addormentarsi, ricordava quanto fosse stata affascinante nel suo abito rosso brillante, con i lunghi capelli lucidi come la seta a pettinati coquetment, il suo sorriso, e decise che avrebbe sicuramente visitato il negozio per conoscerla. Era molto tempo che aveva lasciato la città, e lei, apparentemente, era cresciuta e sbocciata senza di lui. Chi fosse, non lo sapeva. Aspettando l'apertura del negozio, entrò con i primi clienti. Una delle ragazze, sfacciata, tutto fronzoli e truccata fin dal mattino con un livido sotto l'occhio, la vide subito alla cassa. E l'altra? La timida, come l'aveva chiamata tra sé, non si vedeva da nessuna parte. Forse aveva il giorno libero? Non voleva chiedere alla cassiera. Si aggirava per il negozio, deciso a comprare qualcosa per il pranzo. E poi la vista. Seduta vicino a uno degli scaffali inferiori, stava sistemando la merce portata sul carrello e controllando la data di scadenza, osservando attentamente ogni pacchetto. Carina e altrettanto triste. Si avvicinò e chiese, non mi aiuteresti a scegliere il caffè? Lei, sobbalzando, si voltò verso di lui. E aveva degli occhi belli, ma sembravano o spaventati o tristi. È passata accanto a lui verso gli scaffali delle bevande, gli ha mostrato un buon caffè che lui amava. E senza guardarlo, è tornata al suo carrello. E lui improvvisamente capì che non poteva e non voleva essere giocoso come al solito e suggerire di passare la serata insieme. Semplicemente, questa ragazza, spaventata dal fallimento del suo appuntamento di ieri, non accetterà il suo flirt in questo momento e non vorrà mai incontrarlo di nuovo. Tornò in redazione pensieroso e perplesso. Come avvicinarsi a lei senza rovinare la prima impressione su di sé? Forse lei lo ha riconosciuto? Anche se allora era nel parco vicino a Natalia. Lei difficilmente lo ha notato, perché stava guardando Vladimir. E poi è scappata sotto l'assalto delle donne litigiose. Ma Daria conosceva bene Nikita, l'editore del giornale locale. E allora nel parco lo riconobbe subito. Come non potrebbe riconoscerlo, se ha studiato con sua madre, insegnante alla scuola d'arte. Si chiese, perché lui era venuto al negozio? Ha chiesto consigli sul caffè, ma lo acquista sistematicamente da sei mesi. Forse vuole scrivere un articolo su di lei sul declino morale nella loro città? Ma perché inventarsi tutto questo e tormentarsi? La persona è semplicemente entrata nel negozio. Basta. Ma quando vide Nikita nel negozio la volta successiva, cercò comunque di aggirarsi furtivamente dietro uno scaffale, inciampando subito nella signora Irina. Sua madre. Lei, vedendo la sua ex allieva, sorrise. Ciao, Daria, quanto tempo che non ti vedo. Nikita mi ha portato un regalo, un libro sugli artisti olandesi. Viene domani a casa mia, vieni a prendere il libro. Prenderemo il tè e chiacchiereremo. Già per strada si rivolse al figlio. Ho incontrato la mia ex allieva Daria, l'ho invitata da noi domani per il libro. È intelligente, colta e talentuosa. Il giorno successivo, Nikita fece del suo meglio per tornare a casa presto. Sua madre e Daria stavano conversando animatamente quando si unì a loro. La serata volò via inosservata tra le vivaci chiacchiere. Poi lui l'accompagnò a casa. Si sedettero anche su una panchina, chiacchierando. Si incontrarono ogni sera. E Nikita, scherzando e allo stesso tempo sul serio, disse a sua madre. Ecco, mi sposerò a ottobre. La signora Irina annui. Sposati, è tempo. Vladimir ha già tre figli, mentre tu sei ancora single. Daria è una brava ragazza. E ciò che dicono di lei, sono solo chiacchiere. Sposala e non ascoltare nessuno. Ognuno può sbagliare. Vladimir fu il primo a cui Nikita comunicò con gioia la prossima nozze. Vladimir, mi sposo con Daria. Tu sarai il testimone, perché è grazie a te se me ne sono innamorato. Devo ringraziarti. L'amico si indignò. Ti stai prendendo gioco di me? Sai che io sono la parte lesa. Natalia ancora mi tormenta. Perché ti comporti così da fesso? Non sei colpevole. Eppure sopporti le sue lamentele. Non ti capisco. Vedrai quando ti sposerai. Ma finché sei libero, festeggeremo il mio compleanno. Ma io verrò con Daria. Avvisa Natalia affinché non si arrabbi né faccia scandalo. La conosco bene. Tornando a casa dal lavoro, Vladimir rifletteva. Come convincere Natalia ad accettare la presenza di Daria in casa loro? Non voleva litigare né con sua moglie né con il suo amico. Ecco perché gli capitavano tutti questi guai. Ammirava la sua moglie. Snella con il nuovo taglio di capelli e in accappatoio blu era davvero bella. Si baciarono a lungo, poi, riluttante a svincolarsi dalle sue braccia, lei chiese giocosa. Come sto? Vladimir sorrise. Come sempre. La migliore di tutte. Sei il regalo per il mio prossimo compleanno. Quando andiamo a fare la spesa? Ho invitato solo cinque colleghi. Ma dobbiamo prepararci. La trasse a sé. Natalia, devo chiederti qualcosa. Ti dispiacerebbe se Nikita venisse da noi domani con Daria? Ma sua moglie si allontanò subito da lui. Ho già sentito che esce con una delle ragazze che volevano sedurti. Nikita può venire, ma senza di lei. Il marito spiegò pazientemente, ma lui esce con lei e sta anche pensando di sposarla. Allora perché non dovrei essere amico di lui? Natalia lo abbracciò, stringendosi al suo petto, ma sussurrò. Forse lui la porterà per te? Non ha nulla da fare qui nella nostra casa. Nikita si arrabbiò molto con l'amico quando questi lo chiamò e balbettò che non sarebbe stato meglio se venisse a casa loro con Daria. Natalia era contraria. E Nikita aveva detto a Daria il giorno prima che sarebbero andati al compleanno di Vladimir. Ora si trovava nella situazione di dover scegliere tra la ragazza e l'amico. Allora nemmeno io verrò. Ma ormai non perdoneremo più nulla. Perché non hai una tua opinione e ascolti solo Natalia? Ma schiaccio, arrabbiato, buttò giù la cornetta sul tavolo. Mezz'ora dopo era da Daria. Lei lo abbracciò. Era già bellissima e pronta per andare insieme alla festa. Ma lui era cupo e disse solo, non ci andiamo. È il compleanno di Vladimir. Ma Natalia non vuole vederci. Daria scoppiò in lacrime per l'offesa. Non vuole vedermi. Tu non c'entri. Vladimir è tuo amico. Si offenderà se non vieni. Vai tu. Capisco che vuoi congratularti con l'amico. È colpa mia. Devi vergognarti di me di fronte alle persone. Piangeva amaramente. Lui la baciò, cercando di calmarla. Dopo aver smesso di piangere, si inghiozzava ancora, supplicando Nikita di andare da Vladimir. Alla fine, acconsentì, con la promessa di lei di non arrabbiarsi con lui. La madre di Daria sentì la loro conversazione dalla cucina. Non ci posso credere. Mia figlia è una persona rispettabile e non la lasciano entrare in casa loro. Proteggi la tua reputazione fin da giovane. Tutti i vicini si lamentano a ragione. Daria pianse per tutta la serata. Cosa devo fare? Amo Nikita, ma ora si vergognerà di me davanti alle persone. Come ho sbagliato. Perfino la mamma, arrabbiata, la compiangeva. Pensa prima di agire, e per ora sopporta. Non si può coprire ogni bocca con un fazzoletto. Lo so da tempo. Se gli dai corda, ci saranno sempre pettegolezzi. Tacque. Con Nikita non so come andrà ora. Ognuno si sente male se ha paura di invitare la sua ragazza. Forse lui mi abbandonerà. Lui è andato da solo alla festa dell'amico. Che peccato. Sareste stati una bella coppia. Ma cosa posso fare? È colpa mia. Le parole della mamma non aggiunsero ottimismo. Come avevano scherzato male con Svetlana allora. Può davvero un errore non ponderato rovinare una vita intera? E lo sposo non vorrà più avere a che fare con lei. Cosa otterrà al posto della felicità con Nikita? Solitudine e rimpianto per una felicità mancata. Dovrà pagare un prezzo caro per un'unica stupida svista. Ma il giorno seguente Nikita chiamò. Daria, i tuoi genitori sono a casa? Ora verrò con mia madre per chiederti in sposa. Non preoccuparti. Le piaci. E vivremo separati. La signora Irina, amichevole e gentile, tranquillizzò i genitori di Daria e anche lei. Ma adesso sei un'esperta. Chi non ha mai sbagliato, ti guardi allo specchio. Non preoccuparti. Tutto passerà. Invita solo Natalia e Vladimir al tuo matrimonio. Si calmerà. E il resto non importa. Nikita, mentre salutava la fidanzata per portare a casa la madre, sussurrò, non preoccuparti, Daria. Ho parlato con Natalia ieri. Quindi sono andato da Vladimir con Natalia. Perché ti amo. E non voglio rovinare la relazione con l'amico per colpa sua. Abbiamo parlato seriamente. Le ho detto che non mi piace il suo comportamento. Comanda il mio amico Vladimir da sola. Decide tutto in famiglia. Urla con lui. Le ho chiesto quanto tempo suo marito potrà sopportare tutto questo. Lui sorrise. Abbiamo deciso che verrà con Vladimir al nostro matrimonio per congratularsi. Daria, abbracciando il fidanzato, lo baciò ringraziandolo. Era così felice che lui l'amasse e perdonasse un errore involontario e non ponderato. Ario 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 e non ponderato.